ciao amici amici benvenuti e bentornati nel nostro canale oggi è la vigilia di natale le avrei scommesso non lo volevo mettere ma ben l'ha messo c'è il buchino che bello che bello dicevamo perché hai la testa troppo grossa e già il cappello che piccolo anche io ho la testa perfetta almeno spero dicevamo dicevamo oggi è la vigilia di natale e non potevamo mancare nel farvi gli auguri mi raccomando iscrivetevi al nostro canale attivate la campanellina e lasciate tanti like e poi soprattutto iscrivetevi no iscrivetevi seguiteci su instagram di qua su instagram e su facebook mi raccomando perché abbiamo tante tante novità specialmente per l'anno nuovo questa settimana non uscirà il nostro video dei nostri viaggi anche perché siamo in piedi a zona rossa e abbiamo finito le scorte quasi per cui appena si potrà andremo a farlo per cui ci sarà solo questo video qua di auguri che non si può non farlo visto che siete stati molto molto bravi quando vi siete iscritti in tantissimi abbiamo già passato i 300 non ce l'aspettavamo in così poco tempo in così poco tempo arrivare a così tanti iscritti e siamo veramente contenti ci fate capire che ci volete bene e i nostri video vi piacciono e siamo contenti intanto la stanno tirando su non si sa cosa ma vabbè stanno già iniziando a fare l'aperitivo esatto che adesso a breve ci andremo anche noi e vi dicevo uscirà questo video qua proprio domani che sarà il 25 di dicembre poi dopo ci sarà un video finale di chiusura dell'anno poi dopo nell'anno nuovo abbiamo tante tante ma tante novità collaborazioni collaborazioni varie e poi soprattutto vi diamo un piccolo spoiler noi oltre che essere aspiranti videomaker youtuber barra youtuber fotografi piloti di droni a proposito no vabbè mi devo alzare si porta qua i droni perché ci vogliono guarda verde e rosso come il Natale eh si eh te l'ho fatto prendere apposta occhio che c'è la gimbal che si gira non aspetta che lo mettiamo qua dietro anche per loro è Natale e festeggiano mettiamo uno sopra l'altro si vede? si si vede eccolo qua i due fratelli grandissimi vediamo se si vedono inquadriamo si 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 vedono benissimo allora dicevamo oltre a droni eravamo rimasti dicevamo oltre a droni eravamo rimasti e siamo anche musicisti tu io tu canti io sono musicista sono chitarrista e anche tecnico audio sto studiando tuttora con il grande Michele Guaitoli che saluto speriamo che ci veda grandissimo Michele e anche il mio insegnante di canto grande cantante soprattutto per me il miglior cantante che abbiamo in Italia voce maschilla sicuramente beh anche ci sono io saluto anche l'altra mia insegnante di canto è vero che per adesso ho dovuto stoppare già per questa pandemia già Maria Ielli salutiamo che mi insegna anche lirico quindi e io saluto anche Marco Salvador che è il mio insegnante di chitarra un grande gran persona un abbraccio forte mi manchi tanto non vedo l'ora di rivederti oltre che su Skype eccetera ma rivederti anche di persona a un concerto possibilmente eccetera eccetera comunque dicevamo a parte questa piccola parentesi di saluti dei nostri insegnanti che sono veramente gran persone e gran musicisti soprattutto dicevamo e a breve faremo un video musicale di cover che stiamo facendo c'è il buchino che si vede facciamo gireremo un video musicale di cover girato ovviamente da noi dove possiamo ci saranno qualche aiuti esterni io tiro via questo no vabbè lo rimetto dai aspetta aspetta no lo metto da parte senza buco e beh ci sta ci sta sta anche in piedi i due Mavic Mini ed Air 2 natalizi beh comunque dicevamo lo gireremo in parte noi comunque restiamo sempre in tema di video e a breve verrà anche questo oltre che girare video musicali anche per altri perché noi comunque siamo aspiranti videomaker ci divertiamo ovviamente come potete ben vedere insomma noi divertimente tanto cerchiamo di portarvi tanto materiale e abbiamo tante collaborazioni da fare soprattutto col grande Franco Chiarabini che salutiamo grandissimo Frank ciao amici ciao amici grande Frank ti vogliamo bene avremo tante collaborazioni con lui tanti bei video eccetera eccetera mi raccomando iscrivetevi al canale come al solito attivate la campanella seguiteci mi raccomando perché siete in tantissimi lasciate tanti like e seguiteci anche sempre qui uno dovrebbe essere qui e l'altro qui più o meno sono uno sopra è uno qui sotto va beh comunque è uno qui che sarebbero vediamo se ci ho azzeccato sarebbero instagram e facebook già va bene dai va bene signori c'ho fame buon natale buon anno buon tutto e ciao 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 ciao